Una vicenda grottesca, lei iscrive i suoi figli a scuola e i bambini vengono dirottati così di punto in bianco in un altro plesso, ma che cosa è successo? Grottesca la definirei più triste e quasi quasi da far cadere le braccia a terra più che altro, quantomeno all'inizio di quello che è stato questi ultimi giorni o già nell'ultimo periodo le cose si stanno raddrezzando per il verso giusto, che cosa è successo? Noi genitori abbiamo iscritto i nostri figli quando fu mesi fa presso la Giovanni Paolo II che è una scuola del territorio ericino e ci siamo ritrovati a dover portare tra pochi giorni i nostri figli alla Pagoto che è un'altra scuola anche se la Giovanni Paolo è un plesso della Pagoto. Questo ci ha fatto un po' cadere alle braccia a terra, un po' di scoramento è nato in noi per una questione semplice, perché noi siamo i genitori di questi bambini, noi dovremmo decidere dove iscrivere e far formare il loro futuro culturale ed educativo. A quanto pare in Italia diventa difficile pure avere questo, perché noi genitori dobbiamo avere annullate le scelte a cui noi abbiamo avuto dei motivi, noi abbiamo scelto quella scuola per i nostri motivi, vorremmo essere liberi di educarci bene ed educare i nostri figli ottimamente sotto le nostre scelte. I figli sono nostri, sono di mamma, di papà. Abbiamo cercato di evitare questo problema ma purtroppo il 14 settembre ci arrivò una comunicazione dicendo che non era fattibile nulla e che le scuole, le due classi elementari da Giovanni Paolo dovevano orbitare alla Pagoto dove c'è una scuola media. Quindi c'era la possibilità e il rischio alto che un bambino di 6 anni possa venire a contatto con un ragazzino di 14. Nulla da dire ai ragazzini della Pagoto che saranno tutti dei bravissimi ragazzi ma da genitore che non può controllare all'interno se effettivamente questi cancelli sono chiusi, questi ambienti sono stagni, se questi contatti possono o non possono esistere. Dovremmo stare in fiducia di chi ci aveva giurato quasi di lasciare i nostri figli dove li avevamo iscritti e oggi non si è verificata quello che avevano giurato loro. Questo è quello che è successo in prima battuta. Devo comunque complimentarmi, anzi quasi non dico ringraziare ma ho visto un'apertura da parte della dirigente della scuola Pagoto con cui abbiamo fatto un incontro e questo incontro è stato un incontro molto prolifico. Ora abbiamo inviato tramite mail alla scuola una richiesta per poter rettificare questo posizionamento della prima elementare all'interno della Pagoto e ci hanno garantito che con la maggioranza degli iscritti alla classe questa decisione sarà revocata e quindi i bambini potranno ritornare alla Gianni Paolo. Quello che mi viene da riflettere e pensare è che se non ci fosse stato questo polverone mediatico e magari il silenzio sarebbe stato sovrano, come sempre in Italia, c'è sempre bisogno di fare i polveroni per risolvere le cose basilari. A scuola con l'incubo del Covid, qual è lo stato d'animo di voi genitori? Questo è un aspetto ancora più gravoso, quest'anno è un anno particolare, quest'anno è un anno che per noi è una preoccupazione più che una grande gioia di istruzione per i nostri piccoli. Vediamo linee guida sconcertanti, molto ferre, che sono il contrario di quello che ci hanno sempre insegnato psicologi e gente che si occupa della formazione dei piccoli figli nostri e di chi a scuola come me, come te, c'è andato. A me sembra che tutte queste linee guida facciano più confusione che altro. Mi viene il terrore pensare che ogni colpo di tosse che un bambino possa essere guardato e prelevato non dal 118 ma da noi genitori stessi, ma comunque isolato in una classe insieme a un'altra persona. Questo bambino avrà, sento, il timore di un colpo di tosse, avrà il timore di una linea di febbre. Dovremmo misurare noi e noi li faremo rientrare a scuola, una volta guariti per autocertificazione. Cioè io devo, io non sono un medico, non posso sapere se mio figlio è guarito, anche se non ha più la tosse. Chi me lo dice? Che sto dichiarando il vero o il falso? Dovremmo fare dei tamponi? Se lo dice il medico, il pediatra o il medico curante? Eh, e nel momento in cui dobbiamo stare in attesa di questo tampone, chi vive con questo bambino dovrà stare a casa e a non andare a lavorare? Ci sono tanti di quei quesiti che ad oggi non mi sento di dare un giudizio, ma la confusione regna sovrana ed è demerito dell'azzolina in questo caso. I bambini invece come vivono questa situazione? Lei ovviamente parla con i suoi figli. Io parlo, io ho la fortuna di avere tre figli, uno appena nata quindi non è il problema della scuola, uno frequenta la scuola d'infanzia, l'altro frequenterà la prima elementare. Parlo con i miei figli come un padre può parlare dei bambini piccoli e questi bambini piccoli giustamente ancora non riescono a percepire perfettamente ciò che li aspetta dentro quelle mura. Lo vivranno, che è la cosa peggiore, perché se uno pensa, riflette e va a scuola con la certezza come fa un alunno di scuola superiore, calcola pregi, difetti, pro e contro. Un bambino di sei anni si troverà davanti a una realtà da vivere, che lo formerà, che lo trasformerà. E la mia paura è quella che la scuola venga vissuta non come la vivo io, come un ricordo del passato, ma che diventi una tragedia di quello che ho passato io a sei anni, a sette anni. Mio figlio deve andare a scuola con gioia, abbracciare i suoi compagni, non lo si può fare per adesso, lo capisco. Le potevano tenere chiuse per qualche altro mese? Perdevamo formazione? Ma cosa è peggio? Perdere i ricordi o perdere la formazione? Io non so rispondere a questa domanda. Chi ci governa dovrebbe rispondere. Lei tutte le mattine controlla la temperatura dei suoi figli prima di portarli a scuola? Io le controllerò la temperatura, ma non perché i miei bambini dovranno essere cautelati a livello sanitario, perché questo non mi cautelerà dal Covid. Io le controllerò perché amo rispettare le leggi, anche se in questo caso non le condivido. Avere la febbre non significa essere un infetto. Avere la febbre significa che mio figlio prende la febbre cinque volte all'anno. Ne ho tre, sto quindici volte a prendere i miei figli a scuola, per due giorni, un giorno, rispettare un tampone. Che cosa devo fare? Tutti i genitori se lo chiedono. Tutti i genitori accompagneranno figli pensando di clonarsi, perché magari sono iscritti in due scuole diverse e devono entrare in un orario identico. Come faranno? Ringraziamo l'ottore Fileccia, studio. Grazie a tutti i genitori. Grazie a tutti.